Lettere dai caschi bianchi. Non trovo ancora le parole per descrivere questo posto. Non è vero che qui siamo in BIP al mondo. Qui siamo proprio nel buco del BIP del mondo. Il passeggero ad Emo Colombo nel volo PAMJAT 746 diretto a Mumbai è pregato di presentarsi immediatamente al Gekin per le operazioni di imbarco. Ogni battezzato è un missionario perché quando tu hai una cosa bella la fai vedere perché la gioia che dà a te la dia anche agli altri. Ad Emo perché vai in missione? Grazie a tutti. Grazie a tutti.